Io mi ricordo, adesso forse dico una cazzata Francesca, però io mi ricordo che quando c'è stato il primo TechCrunch di Israat in Italia, che poi ci sono state solo due edizioni, perché poi TechCrunch ha detto basta, facciamo noi la nostra versione europea, fu a Roma al... ti ricordi nel parco, in quel teatro molto bello a forma rotonda? Ah sì, ho un ricordo, sì. E secondo me voi eravate lì, io facevo il moderatore e io mi ricordo di voi, che eravate tipo ai vostri primi pitch, insomma. Sì, era il 2011 credo che fosse, perché poi nel 2012 noi ci siamo trasferite negli Stati Uniti. Sì, assolutamente. E nel 2011 noi abbiamo fatto tutti i concorsi per start-up che esistevano, Cioè ovunque, chiunque andasse a un evento per start-up sicuramente ci ha visto pitchare. Ciononostante non siamo riusciti a raccogliere capitale in Italia. Come molte start-up peraltro, che girano, 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 ma poi tuttora gli investitori italiani sono molto... Non so bene, non mi è molto chiaro dove li mettano questi soldi. Comunque siamo poi andate in Silicon Valley perché abbiamo vinto uno di questi concorsi che si chiamava Mind Bridge. Marco. Sì, con Marco Marinucci e Alberto Netti. E il premio era un mese di business gym a San Francisco. Per cui noi avevamo... Elena aveva questa cara amica a Berkeley che si era offerta di ospitarci e poi un'altra amica che si era offerta di ospitarci a San Francisco. Per cui avevamo preso, avevamo subaffittato la nostra stanza a Milano. Ah, perché voi tutte e due partite da Milano? Sì, sì. Io sono pugliese, Elena Faviglia è toscana, però vivevamo entrambe a Milano in quel periodo. Io facevo la regista di teatro e avevo uno spettacolo che era in tournée, che si chiamava Somari. Quindi assunzi mia madre per fare da tour manager per finire le date dello spettacolo. Elena venne via dal lavoro che aveva come giornalista. E al gennaio del 2012 ci trasferimo a San Francisco per fare questa business gym, con un visto turistico. E la vostra idea era, corregimi se sbaglio, questi giochi per bambini? Allora no, la nostra è sempre stata un'idea editoriale. Quindi alla metà del 2011... Però all'inizio avevate i giochi per... Era una rivista. Era una rivista su iPad per bambini, Timbuktu Magazine. E infatti quando uscì l'iPad fu la prima rivista su iPad per bambini al mondo. Quindi noi lanciamo il primo numero che avevamo fatto dalla nostra cucina a Milano. Io dico sempre che gli americani fanno le start-up nei garage e gli italiani le fanno nelle cucine. E avevamo lanciato questo primo numero e il giorno dopo l'uscita sull'App Store, ci eravamo svegliate e avevamo trovato che era partito. Cioè avevano iniziato a scriverne, era uscita la notizia di The First iPad Magazine for Children on the App Store. Insomma, aveva iniziato a circolare questa notizia e quindi avevamo fatto 20.000 download, che per i numeri di adesso dell'App Store è una cifra ridicola. Invece era un mega... Però era un numero... No, non abbiamo detto è fatta. Però ovviamente ci aveva fatto molto piacere, soprattutto perché l'Art Director del New York Times l'aveva scaricata e avevamo iniziato a ricevere feedback da persone, insomma, importanti. E per questo avevamo deciso poi di fare un secondo numero e con questo secondo numero, che aveva fatto circa 65.000 download, quindi un buon increase rispetto al primo, avevamo deciso di andare in Silicon Valley e avevamo fatto un sacco di compiti prima di partire perché volevamo capire... Noi avevamo detto ok, ci andiamo per un mese, ce la dobbiamo giocare al meglio, quindi dobbiamo assolutamente entrare a contatto con questa lista di persone, tra le quali c'era 500 Startups, che all'epoca non aveva application, quindi tu dovevi ricevere una presentazione da tre persone che conoscevano direttamente uno dei partner di 500 Startups e così vedevi uno di loro. Noi eravamo riuscite in questa impresa abbastanza eroica e avevamo visto Christine Tsai, che adesso dirige 500 Startups. Ah, perché lui è uscito? Lui è uscito, sì. Per lo scandalo... Esatto. Che non si può più nominare lui per... No, nominiamo Dave McClure, però sì, è stato unfortunate, diciamo... Diciamo, però in quel momento Dave McClure era abbastanza tra gli dei, quando parlavo in un'altra conferenza, era sempre molto, cioè, super high profile. Sì, sì. Noi il colloquio l'avevamo fatto con la sua partner del fondo, Christine. A lei era piaciuto moltissimo l'app e ricordo che, comunque, ovviamente il risultato del colloquio non te lo dicono subito. Noi eravamo andate a vedere Kleiner Perkins, perché comunque cercavamo di... cioè, continuavamo a cercare di fare fundraising. e nel taxi per andare al Caltrain da Kleiner Perkins avevamo ricevuto l'email che 500 Startups aveva deciso di investire in Timbuktu. Ed era il primo sì che ricevevamo dopo tutti questi mesi di fundraising in cui avevamo ricevuto premi vari, tante pacche sulla spalla, però... Ma nessuno che si impegnava. Sì. E da lì in poi è iniziato questo periodo molto interessante in cui una serie di persone che ci avevano detto di no ci scrivevano, quindi noi ci svegliavamo la mattina in California, che quindi eravamo nove ore avanti, e trovavamo i mail di investitori che volevano darci soldi. Quindi era stato un periodo, diciamo, molto, ovviamente, molto interessante. Tra l'altro, pensa che... Questo scusa perché ovviamente se 500 Startups dice sì, era come dire, guai, combinetto, ha detto sì, allora significa che... Eravamo la prima azienda con fondatori italiani ad essere in più donne, ma fondatori italiani, uomini o donne, ad essere investiti da 500 Startups, a ricevere un investimento da loro, per cui questa cosa aveva anche fatto una certa notizia. Anche perché era il pre, se non sbaglio, pre-internazionalizzazione di 500 Startups, perché all'inizio 500 Startups non era così aperta all'estero, e poi invece, mi ricordo, McClure che andava in giro e voleva pescare da tutto il mondo. Sì, sì, sì. Per cui era un... Era un evento, sì, sì, sì. Un evento. E così avevamo raccolto un primo round di investimento di 600 mila dollari. Ora, la cosa da immaginare è che io appunto, io facevo la regista di teatro, io ho fatto Scienze della Comunicazione all'Università, l'Accademia d'Arte Drammatica, avevo una mia compagnia di teatro, e improvvisamente mi trovavo a parlare con gli investitori. Ricordo, prima ancora che andassimo negli Stati Uniti, che io giravo nei corridoi di Banca Intesa, perché Elena aveva un lavoro da serio, faceva la giornalista, per cui molti di questi incontri che si svolgevano durante la settimana, lei non riusciva a farli perché era in redazione, giustamente. Io avevo un lavoro che era più flessibile, per cui facevo molti di questi incontri, e la mia fortuna era che gli uffici di intesa sono dietro Piazza Scala, in questa sede che è abbastanza labirintica, per cui ti devono venire a prendere per portarti nell'ufficio dell'incontro e passano circa dieci minuti dall'ingresso all'arrivo nell'ufficio. E io ricordo in uno di questi primi incontri, che dicevo, scusa, ma perché uno dovrebbe mettere dei soldi nella mia azienda? E questo qui che mi accompagnava diceva, perché compra dell'equity nella tua azienda. E che cos'è l'equity? Io partivo da zero, perché queste cose non avevo veramente mai frequentato. E come inglese tu viaggiavi senza problemi? Io avevo vissuto un anno in Scozia, perché avevo fatto l'Erasmus, per cui l'inglese lo parlavo abbastanza bene. Poi ovviamente però parlare in inglese di temi di cui uno non ha la più pallida idea. Con tutte le sigle, le metriche, il gergo start-up paro degli investimenti. LTV, CAC. All'inizio era veramente un pandemonio, proprio io mi ricordo all'inizio di 500 Startups, poi parlavano molto velocemente di concetti dei quali non avevo la più pallida idea. È stata dura all'inizio. Però appunto mi spiegavano e mi dicevano l'equity è un pezzo della tua azienda. Ok, e quindi che ritorni pensano di avere? Tipo il doppio, il triplo? Eh no, per questo tipo di investimenti pensano al 7, 10 perra sull'investimento. Allora io chiedo di andare in bagno e aggiungo uno zero alla presentazione. Però questa cosa a me piace raccontarla perché molto spesso quando uno vuole partire con un progetto dice non posso perché non ho le informazioni di partenza per farlo. In realtà uno quando si trova nella necessità di dover imparare delle cose comincia a studiare. Cominci a macinare e a imparare molto più velocemente. Voi avevate già in testa anche un'idea di modello di business o di sostenibilità economica di sta vicenda oppure avevate solo in mente di dire ok, andiamo a fare gli editori e poi vediamo cosa succede. Noi avevamo in testa l'idea di essendo una rivista il nostro primo prodotto di fare una subscription. In realtà poi c'era un periodo in cui andava moltissimo la moneta virtuale per cui avevamo fatto un reboot della rivista con le storie che si sbloccavano con una moneta virtuale avendo un enorme backlash perché la gente tra l'altro vabbè ora fa ridere questa cosa però per dire la magnitudo degli errori che uno fa avevamo fatto una questa moneta virtuale che erano delle bolle per cui i genitori erano incazzati neri perché i bambini volevano soltanto che scoppiare le bolle di fatto quindi avevamo detto ah Timbuktu vuole fregare i nostri figli che ovviamente non era il nostro intento però cercavamo diciamo di capire come potevamo rendere monetizzabili i contenuti che facevamo e avevamo provato questa cosa che avevamo poi subito ritirato come feature perché ma chi sviluppava? Avevamo preso due sviluppatori l'architettura della rivista era fatta in modo che aveva un'architettura nativa per l'iPad e le storie invece erano tutte sviluppate in HTML5 quindi avevamo due developer uno per la parte nativa e uno per la parte HTML sì ok e l'esperienza di 500 Startups com'è stata? cioè training training mentorship fino al pitch finale davanti agli investitori? è stata straordinaria cioè è stata di fatto mi rendo conto adesso come fare un MBA sostanzialmente concentrato in pochissimi mesi d'altra parte questa era una cosa che loro dicevano sempre loro dicevano piuttosto che fare un MBA fate una Startup perché imparate molto di più e rischiate anche di farci dei soldi invece di avere un debito alla fine io ho imparato cioè sostanzialmente tutto quello che so di Startup in quei mesi dell'incubatore e ho costruito comunque un network di persone sia di investitori che di altri founders in quei mesi lì per cui è stata un'esperienza straordinaria alla fine il pitch finale è la parte meno entusiasmante di tutta l'esperienza la parte più bella è l'esposizione a tutte le Fireside Chats quindi poi essendo a Mountain View la fai con quelli dell'inizio di Paypal il fondatore di Mint quello di Thrive con Jason Calcanis che passa da lì e viene quindi hai accesso a un'esperienza diretta di persone che hanno fatto delle cose che è troppo un'altra cosa in Italia per anni questo è stato il grande problema che tu parlavi con gente che di fatto aveva poca esperienza ok però io fino a quel punto è divertente perché io ti ho mi ricordo di voi all'inizio mi ricordo sta roba all'inizio che personalmente non riuscivo a capire perché dicevo ma non so app bambini editore quando a un investitore gli dici in sostanza che è il grande motivo per cui oggi Facebook non vuole dire che sono dei media Facebook dice noi siamo un'azienda di tecnologia perché in borsa meglio essere un'azienda di tecnologia è valutata meglio per cui all'inizio non riuscivo bene a capire in che direzione potevate andare sentivo sempre parlare molto bene di voi come founder però sul prodotto non riuscivo a comprendere e poi invece vi ho rincrociato quando siete uscite con il libro la prima volta e ho detto ma strano mi sembrava lo stesso nome delle ragazze che facevano Timbuktu e non mi ricordo chi mi ha detto no no ma sono proprio loro cazzo è strano non ho capito il passaggio da una cosa all'altra allora noi abbiamo la rivista ci siamo rese conto che era molto difficile da monetizzare per cui che cosa abbiamo fatto abbiamo preso i personaggi della rivista e abbiamo fatto altre 12 app di cui una ha avuto un buon successo perché nel periodo di picco aveva più di 3 milioni di utenti che giocavano in tutto il mondo Timbuktu Pizza e ne abbiamo sviluppate 12 ciò nonostante non siamo riuscite a raggiungere diciamo un livello di sostenibilità del nostro modello di business per cui abbiamo iniziato a cercare altrove e abbiamo voluto puntare su quello che sapevamo essere il nostro asset principale che era la produzione di contenuto per cui in Silicon Valley a un certo punto tutti cercavano di spingerci a creare una piattaforma per user generated content noi sapevamo che quello non era il posto una delle caratteristiche fondamentali di un fondatore di un'azienda è capire quali sono gli ambiti in cui tu personalmente puoi davvero aggiungere valore i tuoi punti di forza conoscere questa cosa di te stesso è uno degli asset principali nel momento in cui uno si approccia a qualsiasi progetto a me ad Elena era chiarissimo il fatto che la produzione del contenuto fosse l'ambito nel quale noi aggiungevamo un valore molto significativo per cui abbiamo deciso di spostarci nel 2014 da San Francisco a Los Angeles francamente anche per risparmiare perché a quel punto abbiamo dovuto siamo andati in modalità survival quindi abbiamo dovuto lasciare andare le persone che avevamo preso per lavorare con noi abbiamo bloccato la produzione delle app per la manutenzione delle app e abbiamo iniziato a cercare di fare altre cose uno di questi progetti che abbiamo fatto è stato abbiamo fatto con la NFL la Lega del Futbol americano un progetto per fare una serie di parchi giochi a San Francisco durante il Super Bowl e abbiamo ideato questo sistema io avevo presentato un progetto per un parco giochi interattivo alla Biennale di Architettura di Bordeaux e avevo vinto l'anno prima abbiamo presentato questo progetto all'NFL e abbiamo creato questo toolkit per comunità di San Francisco della Inner City quindi diciamo non la San Francisco delle start-up milionarie ma la San Francisco dei poveri che pagano il prezzo delle opportunità dei ricchi diciamo e avevamo creato questo toolkit per creare dei parchi giochi un po' guerriglia style invicinati ma toolkit fisico? sì, fisico cioè una cosa che ti permetteva di tracciare quindi siete passati dall'app Pizza Team 2 a una roba fisica una roba fisica che permetteva di progettare e realizzare parchi giochi guerriglia style per la città di San Francisco e ne abbiamo fatti tre di questi e questo è stato un progetto che abbiamo fatto abbiamo iniziato a fare delle consulenze per cercare di sopravvivere raccogliere due lire mentre elaboravamo una possibile un possibile pivot siamo arrivati a un certo punto che Timbuktu aveva 8 mila dollari nel conto in banca e abbiamo detto ok proviamo un'ultima cosa anche perché tra poco non potevamo più pagare l'affitto perché non abbiamo preso lo stipendio per più di due anni a un certo punto e come mangiabate quindi di qua e di là cioè no pagavamo da mangiare pagavamo l'affitto e quello era cioè non e poi stavamo in casa nella nostra cucina una di noi aveva la scrivania l'altra stava sul tavolo della cucina in questo appartamento di una stanza a Venice sempre la cucina e cercavamo di capire che cosa potesse essere la prossima cosa e a un certo punto poi tra le varie cose che abbiamo esplorato è emerso questo titolo Good Night Stories for Rebel Girls quindi questa cioè ci siamo rese conto abbiamo iniziato a leggere parte del nostro percorso e parte della mancanza di fiducia che avevamo riscontrato a un certo punto negli investitori abbiamo iniziato a collegarla all'esperienza di altre fondatrici donne e abbiamo capito che quella sensazione di essere costantemente challenged cioè il fatto che ci venisse data così poca fiducia rispetto ad altri che venevamo intorno a noi non era un'esperienza soltanto personale e non era un'esperienza soltanto legata al fatto di essere italiane ma era un'esperienza molto legata al fatto di essere donne abbiamo iniziato a leggere i dati e a capire che la nostra era parte di una storia collettiva e abbiamo cercato di interrogarci su che cosa potessimo fare dall'interno di una start up che faceva prodotti editoriali per bambini per cambiare la narrative su questo tema ok chiaro e però ovviamente la nostra ossessione era capire come fare un prodotto che traducesse questa cosa in un modo costruttivo perché ovviamente nel momento in cui si presenta un tema di questo tipo ai bambini cioè tu non puoi presentare una visione del futuro che è diciamo distruttiva che non dà speranza perché non è una cosa responsabile da fare per cui come fai a tradurre quella cosa in un messaggio positivo senza fare la cosa vaniglia che è anche ipocrita così perché non era quello il nostro obiettivo e quindi c'è venuta quest'idea di fare questo di raccontare queste storie di donne che erano riuscite ad abitare in una società che è progettata per tenerci fuori ed erano riuscite a inventare un modo di stare al mondo e di dare il proprio contributo alla storia del mondo nonostante vivesse in un ambiente ostile e su questo c'è venuto appunto il titolo di renderle come storie della buonanotte storie della buonanotte per bambine quindi sono educative ispirazionali stando in un ambiente come quello della Silicon Valley ipercompetitivo anche se ti sposti a Los Angeles però il concetto è avere il lusso permetterti il lusso di poter uscire con un prodotto senza ragionare sul modello di business chiaramente è un casino a meno di avere enormi investimenti no? in quel momento nel momento in cui avete detto ok adesso usciamo con un libro se tu scrivi un libro tendenzialmente non guadagni questo è un po' il concetto di base peraltro il libro più venduto del 2017 in Italia il libro di business più venduto del 2017 confermo si cioè guadagni due lire il libro di business scusa perché quello più venduto in assoluto è il mio è il vostro il vostro certo infatti infatti questa è la differenza capito libro di business che fa non so quanto ha fatto 50.000 copie 60.000 copie cioè un numero così solo sull'Italia sì non è che guadagni proprio zero però non è un modello di business sostenibile soprattutto perché poi cosa fai ne scrivi uno all'anno devi scrivere uno all'anno e devi fare numeri pazzeschi ecco come l'avete vissuta voi dall'inizio questa cosa cioè ottima l'idea mi è chiarissimo e a quel punto come l'avete vista come soluzione anche economica allora questa cosa è partita da una newsletter quindi noi abbiamo iniziato a costruire il pubblico prima di scrivere il libro e quindi abbiamo iniziato a mandare a una lista di allora fai conto che quando è arrivato diciamo questo titolo si è materializzato noi avevamo una mailing list di Timbuktu di alcune migliaia di persone sì abbiamo scelto di non utilizzare quella mailing list perché volevamo costruire una mailing list da zero specifica di genitori appassionati di female empowerment ok quindi abbiamo fatto la scelta di non dire spammo ma di dire partiamo da 25 amici nostri che sappiamo che sono amiche per lo più che sappiamo che sono appassionate di questo tema e iniziamo a crescere quella mailing list da quel nucleo di 25 facendo una serie di cose cioè mandavamo una storia a settimana di che loro potessero diciamo condividere con i bambini a tavola a cena e una storia di un'eroina dal presente o dal passato questa newsletter è piaciuta molto abbiamo chiesto a queste 25 persone di iniziarla a inoltrare a gente che conoscevano poi abbiamo fatto una serie di lead pages in cui abbiamo riciclato alcuni dei contenuti che abbiamo sviluppato per il magazine abbiamo creato degli ebook da quelli e li abbiamo usati come lead magnets per ricevere altre email ma sempre specifiche sul tema del female empowerment quando siamo arrivati a se non sbaglio 2500-3000 email minima minuscola sì sì una lista piccola era abbiamo detto forse possiamo utilizzare questa lista di partenza per lanciare questo libro con una campagna di crowdfunding lì abbiamo studiato l'impossibile sulle cioè ci siamo studiate tutte le campagne di publishing anche non di publishing di successo e anche quelle non di successo cercando di fare reverse engineering di quello che avevano fatto queste persone abbiamo parlato con alcuni dei dei creatori di kickstarter di successo e abbiamo noi due messo in piedi una specie di domino in cui il giorno del lancio spingendo la prima tessera a catena succedessero una serie di cose facendo una serie di ottimizzazioni a livello di comunicazione a livello di comunicazione iniziando a contattare i giornalisti da due settimane prima dicendogli ho letto questo tuo articolo su questo tema una lista ultra targettizzata di giornalisti quindi non again non spamming avevamo forse cento nomi alla fine quindi trovandoci gli indirizzi mail iniziando a contattarli su articoli che avevano scritto dicendo potrebbe interessare questa cosa poi contattando scusami ancora poi contattando cioè avevamo installato questo plugin che si chiama follow up nell'email per fare in modo che il giorno del lancio avevamo preparato una serie di mail che partissero il giorno mi ricordo che la mattina del giorno del lancio avevamo un foglio sul quale avevamo un calendario di 5 minuti in 5 minuti di tutte le cose che dovevamo fare come Obama eravate tipo svegli alle 5 5 e 10 questo colazione metti 5 e un quarto questo 5 e 20 parte la mail a questa lista 5 e 25 parte la mail a quest'altra lista giornalisti cose avevamo fatto il setup di un autoresponder nelle nostre email personali che diceva scusami ma non ti posso rispondere perché ho appena lanciato questo su kickstarter poi all'epoca c'era thunderclap per cui avevamo fatto qualsiasi cosa che ti venga in mente per ottimizzare il giorno del lancio l'avevamo fatta e lì avevamo lanciato la campagna con un funding goal di 40 mila dollari per stampare le prime mille copie ma devo dire che il nostro secret goal che non era neanche dichiarato tra le due di noi per non portarci male era un centello magari era di essere il libro per bambini più finanziato di kickstarter e avremmo dovuto raccogliere circa 350 mila per arrivare a quella cifra lì noi avevamo questa ambizione in realtà poi la campagna ha raccolto 675 mila dollari ed è diventato il publishing project più crowdfunding della storia per cui avete preso anche diciamo un momento perfetto da quel punto di vista però fino a qua dico ok grande uno come dire scrive un libro cioè raccoglie fa una campagna di crowdfunding tutti felici stampi il tuo libro e finisce lì invece è diventato un successo gigantesco cioè io per dire sono andato nella libreria a Lewis che è un paesino che non so neanche descriverti in Inghilterra cioè è veramente grande è un metro nella libreria c'era non so la parete tappezzata del vostro libro più tutta una serie di gadget vari cartolini cioè di tutto di più dopo ti chiedo anche su quello e come è esploso in questo modo così incredibile dopo questa campagna ovviamente io ti posso dire la mia interpretazione dei fatti poi c'è sempre una parte di mistero certo questo credo che fosse il libro giusto al momento giusto e credo che rispetto ad altre operazioni commerciali che sono state fatte un po' per cavalcare questo trend che di fatto è stato aperto dal nostro libro noi non abbiamo mai voluto fare un'enciclopedia per bambini questa non è mai stata un'operazione diciamo ideologica nel senso freddo della parola il fatto di essere partiti dal mondo delle good night stories è un'operazione culturale molto profonda perché è un modo di dire le storie della buonanotte sono un rito quotidiano delle famiglie in tutto il mondo ed è un rito attraverso il quale da che mondo è mondo gli umani passano dei valori alle generazioni successive che valgono la pena di essere trasmessi quindi che ne so il coraggio di attraversare il bosco oppure la diffidenza nei confronti degli estranei oppure ci sono tutta una serie di valori molto importanti che vengono passati attraverso le fiabe della buonanotte la costruzione dell'identità proprio dei bambini esatto noi abbiamo identificato il fatto che insieme a questi messaggi fondamentali per la crescita dei bambini purtroppo moltissime di queste storie passano un set di valori che sono intrisi di misoginia la rivalità tra le sorelle per esempio non ci sono fiabe in cui le sorelle sono alleate e si aiutano le unie con l'altre tutte sono gelose perché si vogliono accaparrare il marito prima di quell'altra oppure il fatto che tendenzialmente i bambini sono orfani di madre in quasi tutte le fiabe e i problemi sono sempre creati dalla matrigna che trascina il padre in un odio contro i figli cioè le fiabe sono intrise di misoginia quindi la nostra è stata un'operazione non soltanto di racconto di queste eroine la grande intuizione del nostro libro è stata l'unione del genere della fiaba con quello della biografia e in questo la identificazione all'interno di queste biografie di alcuni momenti che si intersecano con l'anatomia della fiaba e che quindi possono diventare dei momenti cruciali di trasmissione di valori attraverso le storie vere di queste persone questa è un'operazione culturale molto profonda che ovviamente non viene necessariamente colta da tutti quelli che leggono le storie ma in una certa misura sì perché questo libro è diventato un'abitudine quotidiana delle persone non è soltanto un libro che la gente ha comprato perché era figo in quel momento ma è un libro che la gente ha comprato perché ha iniziato a condividerlo con i propri figli e ha aperto la porta a un tipo di conversazioni con i propri figli che altri libri non hanno portato proprio perché si radica molto profondamente nella geografia interiore della comprensione che i bambini hanno del mondo e ha creato un legame rispetto al fatto che queste fossero storie vere e che quindi poi i bambini potessero in curiosissi andare a cercare il video su youtube della motocrosser non udente oppure l'articolo di giornale su quella politica oppure e questo ha fatto trovare ai genitori un terreno comune di confronto con i figli che non pensavano di avere faccio un passo indietro campagna finisce la campagna tappi di champagne immagino dopo non so o sprite magari però uno champagne magari per festeggiare e a quel punto voi il libro non ce l'avevate ancora no per cui avete detto fantastico abbiamo raccolto questa mezza zucca 600.000 ora però dobbiamo scriverlo il libro avete pensato in quel momento cerchiamo un editore ce lo facciamo noi come l'avete fatto operativamente siamo state rincorse dagli editori già da durante la campagna giusto perché hanno cominciato a vedere che il progetto esplodeva quindi c'era interesse abbiamo ricevuto un'enorme quantità di offerte anche dagli Stati Uniti Stati Uniti sì dei più grossi editori ora questa è una cosa parte molto interessante della storia perché abbiamo ricevuto delle offerte molto 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 significative e abbiamo scelto noi non avevamo mai pubblicato un libro prima come editore e avevamo era non avevo dubbi perché se prima eri a teatro e sei andata a 500 startups cioè ovvio che non avessi mai pubblicato un libro se no era troppo facile avevamo quindi la campagna è finita a maggio noi avevamo promesso che questo libro sarebbe arrivato in mano alle persone entro Natale ah ok quindi noi dovevamo scrivere sto libro commissionare 100 ritratti trovare uno stampatore capire come funziona la filiera di produzione di un libro e poi recapitarlo a 15.000 persone in 75 paesi del mondo domanda hai bisogno di permessi per le storie di non so Michelle Obama no perché sono personaggi pubblici e quindi è public cioè puoi fare una storia ok a meno che non sia disparaging però non cioè ovviamente le nostre storie le celebravano quindi non se sono positivi non c'è non c'è problema e poi il ritratto è una tua opera esatto ok chiarissimo e a quel punto avete detto fantastico si può fare sì sì quindi abbiamo iniziato a cercare di capire ok ora dobbiamo fare sto lì allora la cosa è che abbiamo ricevuto tutte queste offerte dagli editori però noi abbiamo detto però scusate noi abbiamo già dimostrato che c'è un mercato per questo libro e questa può essere l'occasione che noi abbiamo cercato con tanta fatica in tutti questi anni di costruire un'azienda cioè perché di fatto noi avevamo raccolto questi soldi però eravamo sempre noi due cioè un'azienda non dico non esisteva ma quasi insomma e per cui abbiamo detto no questa è la nostra occasione di costruire l'editore che abbiamo sempre sognato di costruire per cui i diritti ce li teniamo e li vendiamo agli editori soltanto per le altre lingue ok per le localizzazioni esatto soltanto per le localizzazioni e tu ovviamente eri esperta di vendita di diritti in varie lingue localizzazioni no su quello abbiamo preso un agente all'inizio poi abbiamo assunto una persona successivamente però internamente però all'inizio abbiamo preso un agente e quindi dove cioè abbiamo messo insieme una timeline abbastanza impossibile ma ce l'abbiamo fatta e ci siamo chiuse in casa e abbiamo lavorato 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 scritto 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 e siamo riuscite a consegnare il libro effettivamente prima di Natale io ho fatto una serie di colloqui ad aziende di logistica perché per esempio cioè poi le cose succedono così no noi non avendo mai fatto l'editore non sapevamo neanche bene come funzionasse il mercato della distribuzione e sapevamo che dovevamo mandare sti libri per cui abbiamo fatto non soltanto da editore ma anche da distributore esclusivo del nostro libro negli Stati Uniti questo che cosa ci ha consentito ci ha consentito di lavorare con Amazon in un modo in cui nessun altro editore ha mai lavorato perché noi non distribuendo il libro tramite un distributore non abbiamo venduto il libro ad Amazon e poi Amazon se l'è venduto per conto suo noi abbiamo aperto un nostro store su Amazon e quindi abbiamo mantenuto il controllo del prezzo su Amazon e siamo entrati in questo programma molto bello che si chiama Amazon Exclusives in cui tu puoi fare una serie di negoziazioni con Amazon per essere il venditore esclusivo del tuo libro su Amazon Stati Uniti quindi questa è una cosa che a parte noi non ha mai fatto nessuno nella storia dell'editoria cioè il fatto di trovarci nella condizione di non aver mai pubblicato un libro prima di non sapere come funzionavano tanti meccanismi e di avere urgenza di risolvere una serie di problemi molto pratici tipo devo spedire sto libro dappertutto ci ha fatto diciamo incontrare un modello di business completamente nuovo per l'editoria per cui in pratica per la distribuzione poi vi siete appoggiati ad Amazon avete fatto stampare i libri abbiamo fatto la distribuzione delle vendite del nostro sito tramite il 3PL quindi un third party logistic partner che si chiama ShipBob che all'epoca aveva un solo magazzino a Chicago e anche grazie al nostro libro ha poi scalato e adesso ci hanno cinque magazzini in tutti gli Stati Uniti hanno raccolto un round gigantesco e ci hanno detto io sono diventata amica dei fondatori che sono tra l'altro anche loro immigrants quindi c'è stato anche questo legame tra di noi che tutte le volte che facevano i pitch per raccogliere il loro Series B ovviamente loro parlavano dei prodotti che distribuivano ma tutte le volte che raccontavano del nostro libro si illuminavano gli investitori perché le figlie di tutti gli investitori avevano il nostro libro quindi l'hanno usato diciamo come case history per il loro fundraising per cui avete stampato scritto il libro stampato sì in Canada ah ok in Canada perché giustamente bisogna trovare un posto vicino però conveniva farlo in Canada immagino e a quel punto una volta che avete avuto le vostre 75 mila copie non so quanti fossero quelli della campagna di crowdfunding le avete spedite fatti spedire da un partner terzo sì e lì finisce diciamo l'epoca del crowdfunding dove avete chiuso i conti col passato diciamo però di lì qual è stata la mossa successiva la mossa successiva per non fermarsi a quello è stata puntare molto sull'e-commerce quindi noi abbiamo venduto il libro principalmente attraverso il nostro sito sia ai clienti cioè persone normali che ai negozi quindi il nostro libro e cioè i negozi hanno iniziato a scriverci le librerie perché la gente entrava e chiedeva se avevano good night stories for rebel girls e questi dicevano chiedevano ai distributori e nessuno ce l'aveva quindi loro venivano da noi quindi abbiamo costruito una nostra rete di distribuzione negli Stati Uniti e abbiamo poi avviato rapporti diretti con anche Barnes & Noble con tutti i più grossi e con tutti i più piccoli però avendo un tipo di rapporto diciamo che ci consentiva di controllare il prezzo su Amazon anche quelli piccoli erano molto contenti di pagare il libro in anticipo prima di riceverlo anche questa cosa mai sentita prima per cui niente resi niente resi noi abbiamo sempre lavorato senza resi perché non ci potevamo cioè noi eravamo troppo piccoli per assumerci il rischio dei resi e poi il magazzino non essendo un magazzino di distribuzione del libro non aveva anche a livello contabile la capacità di gestire il reso quindi noi se lo volevi lo paghi se lo vuoi questo è se no mi dispiace ma non te lo possiamo vendere bellissimo ok ovviamente questa è una cosa che puoi fare quando hai un titolo che è in high demand poi uno deve sempre valutare però ma come facevi a fornire 100 negozi diversi senza un distributore che facesse questo mestiere gli rispedivi gli facevi spedire a mano sì il magazzino dove compravi il libro tu che lo comprai per tua figlia era lo stesso dal quale partiva la scatola dei libri per la libreria solo che la libreria aveva uno sconto se ne compravano credo 14 copie che era la dimensione della scatola così non lo dovevano rompere la potevano spedire direttamente quindi tutte queste micro ottimizzazioni sono tutte cose sulle quali abbiamo ragionato per fare cioè un processo che in una casa editrice normale è fatto da non lo so 50 persone noi all'epoca eravamo 6 e di cui 2 erano pure le autrici e quindi io facevo un po' l'autrice un po' viaggiavo a Chicago gli facevo vedere come dovevano fare le scatole un po' facevo l'accordo con Amazon un po' cioè abbiamo veramente fatto tutto cioè proprio from the ground up immaginato come questa cosa poteva stare in piedi e il sito faceva da front end per ricevere gli ordini e poi a quel punto smistavate se era l'ordine della libreria lo smistavi alla a chi stampava di fatto i libri che spediva 50 copie di qua 2 copie lì e via così ok poi tra l'altro vabbè poi questa cosa si è un po' complicata ovviamente a mano a mano che le cose crescono poi devi fare delle non tutto regge devi ripensare è stato poi ripensato un po' la logistica perché ovviamente poi diventa cioè le soluzioni guerria vanno bene per un certo periodo dopodiché devono essere ovviamente devono essere riorganizzate per essere razionalizzate per cui poi questo è il percorso di crescita di un'azienda però noi abbiamo visto molto bene la cosa di cui abbiamo sentito parlare tante volte a 500 startups che tu ti trovi una serie immensa di problemi che devi risolvere a volte con il super attack a volte con lo scotch poi a un certo punto lo scotch si rompe e devi trovare un'altra soluzione però questa capacità di cavalcare questo cavallo che a un certo punto è impazzito è iniziata ad andare fortissimo l'abbiamo avuta e devo dire che è una cosa che mi riempie di orgoglio perché fare una cosa del genere accanto a insomma a un'operazione comunque artistica di questo livello è abbastanza raro è da pochi è da pochi veramente e il passaggio poi di internazionalizzazione e quindi di cessione dei diritti nelle altre lingue come funziona? lì abbiamo lavorato con un agente abbiamo preso un'agente letteraria a New York e quindi che hai trovato come? e anche gli agenti hanno iniziato a scrivere tantissimi agenti abbiamo fatto una serie di conversazioni multiple ne abbiamo selezionate alla fine un paio a noi interessava molto che non fossero diciamo soltanto concentrati sul mondo del libro perché noi sapevamo che non volevamo firmare un publishing deal negli Stati Uniti siccome ovviamente il modello di business degli agenti è che guadagnano una percentuale del deal firmato con un editore abbiamo scelto un'agenzia che è CAA Creative Artist Agency che è soprattutto nota per l'arm di film e tv e che ha gli headquarters a Los Angeles perché abbiamo pensato CAA fa tutta la gestione degli speaker anche sì 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 è una delle società più grosse al mondo se non la più grossa al mondo che fa l'agenzia e siccome hanno tanti interessi diversi abbiamo pensato che CAA non si arrabbierà troppo se non firmiamo un accordo con un editore perché comunque ci può monetizzare in altri modi se invece noi prendiamo un'agenzia che è soltanto letteraria questi sicuramente si frustreranno e non vorranno fare troppo lavoro ok e quella è stata credo una scelta molto sensata perché poi noi abbiamo recentemente firmato un deal per un musical a Broadway ok e quindi quello ovviamente CAA sono ambiti nei quali insomma si muove bene si muove molto bene successivamente abbiamo scelto di smettere di lavorare con l'agente letteraria perché abbiamo assunto una persona internamente che si occupa della gestione dei diritti ma come funziona la gestione dei diritti cioè se tu non solo fai in Francia sì non parliamo dell'Italia per decenza mettiamola così se lo fai con la Francia l'editore di turno viene e dice voglio portare il tuo libro voglio mettere in francese che a livello di economics che tipo di gestione viene fatta cioè ti resta in tasca quanto a te che hai diritti allora le royalties ovviamente vengono negoziate per cui sulla base loro fanno una proiezione di quanto sarà grande la prima stampa e ti danno tendenzialmente un anticipo sulle royalties che sono non lo so possono andare dall'8 al 15% più o meno 18 poi a seconda del tuo potere contrattuale e ti danno un anticipo non restituibile sulle royalties poi quando questo anticipo diciamo si è esaurito vanno a conguaglio in base al venduto un paio di volte all'anno penso che ci sia per cui alla fine tieni comunque come con un con un editore se scrivi 10 15 più o meno intorno a quello per paese però per paese sì il nostro libro è tradotto in 48 lingue e hai 48 di diversi sì wow la Bibbia per contesto è tradotta in 52 lingue quindi for to go però insomma la Bibbia ah sì è il libro quello un po' spesso cicciotto così se mi ricordo che ne parlavano in televisione sono 48 deal diversi sul libro ok cioè per libro perché poi il libro 1 poi è uscito Good Night Story Forever Girls 2 poi adesso è appena uscito tra l'altro anche in Italia io sono una bambina ribelle il quaderno delle mie rivoluzioni che è l'ultimo arrivato della serie delle bambine ribelli e però poi quindi questi accordi sono 48 per il primo libro poi penso che siano una trentina 35 per il secondo libro ovviamente quello nuovo è appena uscito e poi ci sono altri accordi di licensing per esempio abbiamo fatto i calendari abbiamo fatto infatti ho visto una serie di i diari per la scuola abbiamo fatto le cartoline ma come funzionano quelli? quelli sono dei deal in cui tu fai licensing sul brand diciamo Good Night Stories for Rebel Girls oppure Rebel Girls a seconda dei paesi abbiamo fatto un coloring book anche per cui nei paesi in cui la property è più forte l'Italia il Messico il Brasile sono dei paesi molto forti per noi gli Stati Uniti ovviamente su quei paesi ovviamente gli editori hanno voglia di diciamo usare la visibilità del libro in vetrina per piazzare degli altri prodotti e quindi abbiamo diciamo per cui di fatto il deal lo fai sempre con l'editore del libro che in più ha anche altri prodotti in alcuni casi sì in altri casi ci sono degli editori che sono specializzati per esempio solo in calendari oppure specializzati soltanto nelle cartoline e allora per garantire diciamo una qualità comunque il nostro libro ha una production value molto alto perché è hardcover la carta è di un certo di un certo tipo per cui noi abbiamo sempre cercato dei partner che potessero garantire una resa anche sul piano fisico molto alta però come fai a cercare 42 partner diversi in 42 diversi paesi per fare che ne so i calendari natalizi piuttosto che beh i calendari non li fai in 48 paesi ovviamente li fai non lo so magari in 5 6 in quelli clou e vi siete mosse voi anche su quello per cercare il partner o semplicemente sono proposte che vi sono arrivate e poi le avete valutate no abbiamo preso questa persona molto brava che si occupa di che si occupa che lavorava prima di noi a diario di una schiappa ah ma dai come property e lei ha di fatto messo in piedi ovviamente con la nostra guida il dipartimento di licensing insomma è una persona molto brava che ha seguito questa parte e se tu dovessi dire oggi del business complessivo quanto cuba la vendita del prodotto editoriale e quanto il licensing perché ad esempio mi aveva colpito molto credo Lamborghini il licensing aveva un valore enorme cioè clamoroso rispetto a quello che fosse la vendita poi del prodotto fisico io credo che per noi sia circa un terzo ok un 30% il licensing è comunque diciamo la cosa cioè la macchina perché è la cosa che ti costa meno cioè è da un terzo del budget ma ha dei costi infinitamente più ridotti rispetto ad altre aree del business giusto corretto e questa è la cosa perché questo è diciamo l'aspetto che per esempio è molto poco compreso da un certo tipo di investitori tradizionali che considerano scalabile soltanto la tecnologia in realtà non c'è nulla di più scalabile del contenuto assolutamente il problema guarda Disney guarda Rainbow per fare un esempio italiano che ha costruito letteralmente un impero sulle wings Iginio Straffi è stato straordinariamente bravo a costruire un'arm di licensing con Cristiana Buzzelli che di fatto è partito una storia straordinaria italiana che tra l'altro è molto poco conosciuta perché un'azienda che è partita da un presido di un prete a Loreto è diventata lo studio di animazione indipendente più grande d'Europa hanno acquistato un paio di anni fa uno studio di animazione in Canada con 600 persone e sono tra i players a livello mondiale più importanti da un punto di vista di animazione purtroppo quello che accade è che nelle arene degli investitori la visuale è molto limitata sulla generazione del valore per cui ci si abitua a vedere valore in determinate aree semantiche e in determinate aree di competenza e molto spesso ce ne sono tante altre che vengono trascurate però per esempio l'editoria è un mondo che è popolato da dinosauri che è ripe for disruption certo e la comunicazione perché questo è un altro aspetto per me interessante ok la campagna kickstarter iniziale però lì avete raggiunto un certo tipo di pubblico ma nel momento in cui vai in 40 paesi diversi non è detto che in un certo paese il brand fosse già noto chi a quel punto ha comunicato nel paese l'editore locale avete fatto voi una campagna o delle iniziative di comunicazione come l'avete gestita quella? allora sui mercati locali nelle lingue locali è l'editore che gestisce la comunicazione noi abbiamo soprattutto con dei partner chiave tipo con Mondadori in Italia l'Italia è ovviamente uno dei nostri mercati principali cioè comunque lavoriamo in coordinamento per cui approviamo gli spot che vanno in televisione o non lo so determinate iniziative di marketing vengono concordate insieme però è una cosa che gestiscono soprattutto gli editori la cosa però principale è stata che le campagne di Kickstarter e poi la comunicazione in generale che noi abbiamo fatto su quest'operazione ha dato un imprinting così forte che gli editori hanno raccolto cioè la comunicazione hanno raccolto i frutti di quella comunicazione sì i frutti e poi si sono anche lasciati ispirare diciamo dal tipo di parole dal modo in cui noi abbiamo raccontato l'operazione hanno cercato di utilizzare gli stessi modi gli stessi temi lo stesso pitch diciamo del libro anche nei loro mercati locali per cui è molto interessante il fatto che il pitch della campagna di Kickstarter non è soltanto un pitch ai sostenitori della campagna ma è un pitch al mercato insensolato quindi anche ai tuoi partner futuri perché se tu sei in grado di raccontare un prodotto identificando qual è il il pain point del cliente finale in modo molto chiaro poi i tuoi partner i tuoi reseller eccetera ovviamente prenderanno quel pitch e lo riproporranno pari pari sulle loro piattaforme perché vedono che funziona giusto giusto e oggi se dovessi dire la dimensione di questo impero editoriale qual è? cioè come siete messi in questa fase della vostra crescita? a che punto siete? eh siamo in un punto molto interessante della crescita dell'azienda perché abbiamo avuto questa crescita vertiginosa cioè continuiamo ad avere questa crescita vertiginosa negli ultimi negli ultimi anni poi voglio dire il primo libro è uscito nel 2016 a fine 2016 quindi stiamo parlando veramente di pochissimo tempo e abbiamo siamo io per me è stata una straordinaria emozione firmare l'opzione dei diritti a Broadway perché io sono andata come ti ho detto all'inizio di questa conversazione negli Stati Uniti lasciando uno spettacolo in tournée in Italia nelle mani di mia madre all'inizio per cui aver fatto questo giro in cui firmo tra l'altro con Kristen Chenoweth che è una delle più grandi star di Broadway che attached si dice al progetto è stata veramente un momento che mi ha fatto venire le lacrime agli occhi per cui siamo in questa fase di espansione comunque del brand e siamo usciti con questo titolo qualche mese fa che è questo questo diario un po' che quindi spinge un po' più all'interattività e e ora vediamo insomma come e come rendi sostenibile questa cosa continuando a buttare fuori i contenuti come è fatto a un cruise praticamente continuando a tirare fuori blockbuster blockbuster che funzionano allargando e dando il licensing ovviamente poi il fatto di aver avuto una piattaforma cioè di aver costruito una piattaforma ti dà qualcosa sulla quale poi tu continui a costruire perché le persone che hanno comprato i nostri libri hanno sviluppato un rapporto di fiducia con Timbuktu come editore e con noi come autrici per cui questo cioè poi ti dà la possibilità di continuare un dialogo che non deve ripartire da zero ma che è stato già avviato e 500 startups ha ancora un equity di Timbuktu? No abbiamo liquidato la maggior parte dei nostri investitori due anni fa circa no due anni fa no l'anno scorso credo e 500 startups ha avuto il ritorno che avevano chiesto quelli inizialmente di intesa perché hanno avuto un ritorno di circa 8 per sull'investimento iniziale quindi anche questo mi ha riempito di orgoglio perché effettivamente per un founder di fare la delivery di questo tipo di ritorno non è una cosa che possono dire tutti per cui sono stata molto contenta di questo per cui avete deciso di liquidarle così eravate liberi di gestire come volevate voi sì grande fantastico caspita per cui adesso Broadway e e torni in teatro nel senso hai già fatto tutto questo cerchio qua se effettivamente Good Night Stories for Rebel Girls riusciremo a vederlo come un musical di Broadway devo dire che sarà una cosa molto molto entusiasmante esaltante e voi siete adesso a Los Angeles noi siamo a Los Angeles io da qualche tempo continuo a mantenere la mia equity dentro Timbuktu ma non lavoro più a Timbuktu per cui sto iniziando un percorso mio però appunto è stata un'avventura pazzesca sì e continua ad esserlo comunque per tanti versi perché ovviamente vedere come si evolve questa cosa è molto bello perché uno infonde il suo DNA in un progetto e poi vedere sia l'impatto che questo ha sui lettori ma anche l'impatto che ha sui mercati perché poi successivamente al lancio del nostro libro gli scaffali delle libri resi sono riempiti di questo tipo di storie che ovviamente questa è una cosa che a volte ti fa un po' arrabbiare ho visto in Inghilterra ci sono le storie per i bambini come se ci fosse bisogno dei libri per i maschi voglio dire il motivo per cui è nato questo libro è il fatto che il 90% dei libri non hanno protagoniste femminili parlanti però poi diciamo anche proprio la grafica è stata clonata ovviamente le cose ti fanno anche arrabbiare però in generale l'onda lunga di questo progetto è stata veramente incredibile perché a livello globale ha fatto emergere una serie di storie femminili che erano completamente sepolte quindi questo è quando uno riesce a creare dei trend donne viventi vi ha mai contattate si ci ha scritto una lettera Hillary Clinton non ci credo Hillary in persona che è stato un momento molto anche quello molto emozionante perché ci ha scritto il Natale dopo le lezioni a mano ha scritto Hillary ha firmato sì a mano la lettera è dattilo scritta ma è firmata a mano ed è stato molto bello poi abbiamo incontrato Cimamanda Ngoziadici la scrittrice nigeriana abbiamo incontrato Lori Morgan l'ultramaratoneta Merit Moore la fisica che fa anche la ballerina classica abbiamo incontrato di persona alcune di queste rebel girls con alcune ci sono state le comunicazioni sappiamo che Serena Williams ha il nostro libro che lo conosce sì Serena che poi è sposata con Alexis o Onion e quindi insomma è molto vicina al mondo tech sì e ce l'ha detto questo Eva Longoria che sono amiche ma perché sai in seguito all'enorme successo del libro abbiamo iniziato a incontrare una serie di celebrities cioè tipo stellari che volevano acquisire i diritti del libro per tv e film wow ma e come funziona lì ti scrivono e dice tramite l'agenzia ovviamente sono una serie di incontri per cui abbiamo incontrato Cate Blanchett Kerry Washington Eva Longoria Paul Feig il regista di Ghostbusters cioè veramente chiunque per cui ci siamo ritrovate sull'onda di questa cosa cioè tipo Cate Blanchett ci ha invitato a vedere il suo spettacolo a Broadway e l'abbiamo incontrata dopo lo spettacolo in camerino quindi sono quasi svenuta tipo Gesù la mia vita è completa l'hai vista arrivare con capito Laura dietro brillava un pochino veramente no per cui è stato non lo so è un'avventura che veramente ha aperto tanti mondi ci avete anche Elon Musk bel in lì a un metro a Los Angeles magari sotto un tunnel non so quanto si è appassionato di female empowerment francamente lui è magari un pelo lontano dopo la sua dichiarazione che ha detto che le donne le seguono soltanto su Instagram e non su Twitter è così va preso così magari è appena tornato da Marte ha fatto giretto e non era lucidissima posso provare a mettere una foto di me in costume nella quarta del libro però non lo so grande senti fantastico una storia straordinaria quindi davvero in bocca al lupo per la prossima avventura sono curioso di vedere che cosa ti inventi ecco questa è la grande domanda crepi il lupo grandissima grazie grazie mille